buongiorno allora oggi voglio parlarvi di questo paper che abbiamo pubblicato nel 2004 nel new england journal of medicine praticamente la piri più importante rivista medica al mondo semiel klein era il primo autore di questo paper e diciamo di questo paper io ero un coautore cosa abbiamo fatto in questo paper perché importante importante perché per la prima volta abbiamo dimostrato come gli studi gli studi di associazione possono essere ingannevoli non ci sono un sacco di studi che fanno vedere che la circonferenza vita correla con il rischio di sviluppare diabete tante altre alterazioni metaboliche in solo resistenza ma come vi ho cercato di spiegare in diversi altri studi un'associazione non significa che ci sia un rapporto causa effetto tra due fenomeni c'è tra la circonferenza vita il grasso addominale e gli effetti metabolici quindi cosa abbiamo fatto in questo in studio abbiamo preso praticamente 15 donne obese che dovevano fare un intervento di liposuzione addominale quindi chirurgicamente il chirurgo rimuoveva delle grosse quantità di grasso addominale sotto cutaneo vi farò vedere un secondo cosa abbiamo fatto e otto di queste donne avevano erano normali una normale tolleranza lucidica e 7 invece avevano diabete tipo secondo in soldoni cos'è che abbiamo visto i risultati è che grazie a questo intervento chirurgico siamo riusciti a ridurre il volume del tessuto addominale sottocutaneo misurato con la risonanza magnetica del 44 per cento nelle donne con tolleranza ciliega normale e del quasi 30 per cento in quelle diabetiche quindi diciamo che c'è stata una riduzione del 18 per cento del grasso totale del 18 19 per cento 18 nel gruppo normale e 19 nelle diabetiche ok quindi un'importante riduzione di grasso totale e sottocutaneo per inciso quando otteniamo questi tipi di risultati con l'attività fisica e con la dieta con la resistenza calorica abbiamo degli effetti spettacolari sul sul miglioramento del della glicemia dell'insulinemia di tanti altre pressione strassossidativo infiammazione e invece in questo studio come farò vedere un secondo delle tabelle le figure non abbiamo visto praticamente nulla nessuna modificazione ma tengo a precisarsi presidare che in questo studio abbiamo chiesto le persone appunto al baseline dopodiché hanno fatto l'intervento di ripostruzione e le abbiamo ristudiate dopo 10 12 settimane e abbiamo chiesto a queste donne di rimanere stabili di non fare attività fisica e di non mangiare di meno perché voleva mostrare gli effetti della ripostruzione quindi della rimozione chirurgica di una grossa quantità di grasso sottocutaneo addominale senza modificare il bilancio energetico allora faccio vedere un attimino i dati vediamo qui la tabella numero uno ecco qui vedete il gruppo sono divise nel gruppo 8 che hanno una normale tolleranza glucidica e 7 diabetiche vedete che il bmi è preso da 35 1 a 32 7 altamente significativo da 39 9 a 36 c'è stata una riduzione di 9 kg 9 10 kg nel grasso viscerale nel grasso totale misurata con la dexa è una riduzione importante per il grasso viscerale sottocutaneo vedete mentre naturalmente non c'è stata modificazione del grasso viscerale perché era soltanto una ripostruzione del grasso sottocuminale vedete velocemente cosa è successo praticamente questa cosa no una donna del gruppo a cui abbiamo rimosso vedete chirurgicamente il chirurgo ha rimorso chirurgicamente una una grandissima quantità di grasso sottocutaneo vedete qua la tac grasso sottocutaneo qui questo si è ridotto in maniera importantissima mentre quello viscerale quello interno intra peritoneale non è stato modificato quindi vi dicevo che a fronte di queste modifiche della composizione corporea del comparto addominale centrale vediamo chiaramente una riduzione significativa della circonferenza vita da 108 a 94 da 119 a 107 ma nessuna nessuna modificazione dei fattori di rischio cardiometabolici nessuna riduzione della pressione sistolica diastolica della glicemia dell'insulinemia del colesterolo ldl hdl totale o dei trigliceridi vedete il piverio a significatività non c'è zero quello che vediamo è chiaramente una riduzione della leptina voi sapete che la leptina è questo ormone prodotto dal tessuto al diposo in proporzione alla quantità di grasso immagazzinato quindi è normale che se noi riduciamo del 19 20 per cento il grasso totale c'è una riduzione della leptina rilasciata in circolo e infatti lo vediamo altamente significativo p 0,05 e invece nessuna modificazione della diponettina del tn palfa della interlochina 6 e della proteina acereativa nessuna modificazione dell'infiammazione come vi dicevo a differenza di quello che vediamo con la restrizione calore con una riduzione del peso indotta da un bilancio energetico negativo se andiamo a vedere il clamp in questo caso abbiamo fatto un clamp euglicemico iperinsulinemico con traccianti non radioattivi e quello che si vede che sia la l'apparizione del glucosio che la disappearance quindi sono dei marchi di insulino sensibilità sono praticamente immodificati vedete prima in blu scuro e dopo dieci due settimane della liposuzione in azzurro nessuno sono praticamente sovra imponibili come lo è l'apparizione degli acidi grassi liberi quindi non c'è nessuna modificazione della lipolisi tutto rimane uguale sia nelle donne che hanno una normale tolleranza glucidica che come vedete qua nella figura 3 in quelle diabetiche tutto è modificato nulla cambia quindi questo è un è un è un paper molto molto importante perché come dicevo prima è il primo che dimostra che non esiste che l'associazione non significa causalità e che per poter modificare la propria salute metabolica e fattori importanti come ho già spiegato in altri video l'insulino sensibilità che è uno dei fattori importantissimi nell'invecchiamento per attivare la via di segnale più importante per l'invecchiamento l'insulina agio foranto pathway c'è bisogno di un deficit negativo bisogna essere in restrizione caolica bisogna mangiare di meno o fare più attività fisica anche se come ho spiegato in altri video i due interventi hanno degli effetti complementari ma hanno anche degli effetti specifici che li caratterizzano e diversi tipi di formatività fisica e diversi tipi di restrizione calorica e di composizione della dieta durante la restrizione calorica cioè quello che mangiamo quando riduciamo l'introdo calorico va a modificare l'impatto della restrizione calorica quindi è più complesso di quello che viene raccontato sui giornali tutti i giorni prendendo degli studi o epidemiologici che sono soltanto di associazione o degli studi cross sectional o altri studi che vanno a vedere soltanto la modificazione del peso senza andare a vedere gli effetti metabolici sull'invecchiamento sui meccanismi di invecchiamento e quindi bisogna essere molto attenti bisogna naturalmente essere esperti per capire per conoscere questi studi per averli fatti anche molti di questi studi in maniera che una persona possa prendere controllo della propria salute leggevo ieri un nuovo report delle nazioni unite che fa vedere un quadro importantissimo di invecchiamento a livello mondiale non soltanto nei paesi sviluppati ma anche in quelli di sviluppo l'invecchiamento sta aumentando in maniera incredibile siamo passati dal 9 per cento si arriverà al 19 per cento di ultra 65 anni in media in tutto il mondo in italia siamo già al 28 per cento previsto il 34 per cento cioè uno su tre italiani avrà più di 65 anni come vi ho già detto precedentemente i dati suggeriscono che queste persone non sono sane perché per tantissimi anni molte delle persone poi ci sono alcune persone sane ma la maggior parte degli italiani da degli studi che abbiamo fatto con vincenzo a tela ci dicono che molti degli italiani hanno un insieme di alterazioni metaboliche molecolari che aumentano drasticamente il rischio di sviluppare un sacco di patologie croniche degenerative cardiovascolari cerebrali demenza ictus fibrillazione atriale alcuni più più frequenti tumori tenete conto che una donna su 12 in italia sviluppa tumore alla mammella e tanti altri quindi i dati suggeriscono che è di assoluta importanza prendere prendersi cura prendersi in carico la propria salute ed evitare limitare questo accumulo di danno metabolico molecolare perché probabilmente salvo eventi estremi con cambiamenti drastici demografici le risorse a disposizione ahimè saranno limitate perché ripeto con un terzo di italiani con più di 65 anni e in cattiva salute è chiaro che non ci saranno le risorse economiche specialmente con un paese estremamente indebitato come l'italia di fornire cure a tutti gratuitamente soprattutto alla luce dell'epidemia di obesità mostruosa nei bambini e teenagers e non solo di obesità e quindi dovete iniziare a pensare che la vostra salute è il patrimonio più prezioso e che bisogna cercare di mantenerla il più possibile in ordine in maniera da non incorrere delle spese insostenibili perché lo stato ripeto non se ne potrà fare carico per tutti ma al di là di quello del costo economico che sicuramente è un qualcosa di importante che va considerato c'è anche un discorso di benessere personale insomma un conto arrivare a 60 70 80 anni in buona salute ancora essere in grado di viaggiare di godersi la vita di fare dello sport di è un conto arrivare a quell'età messi male prendo un sacco di farmaci operazioni malattie sofferenza depressione poi la vita diventa brutta diventa difficile quindi ripeto questi video che sto facendo sono un'esortazione a riflettere a capire che ci sono dei dati scientifici molto seri molto potenti che dimostrano la potenza degli stili di vita se vengono ben utilizzati naturalmente perché ci sono un sacco di stupidate in giro che vengono dette sui giornali sui socials pericolose molte di queste invece dati scientifici come questi fatti su ricercatori seri con dei protocolli ben definiti e dimostrano una potenza enorme degli stili di vita nel rallentare e prevenire appunto i danni metabolici molecolari che aumentano drasticamente il rischio di sviluppare molteplici patologie man mano che le persone invecchiano e con questo messaggio di speranza ma anche un incoraggiamento ad agire vi saluto e ci vediamo alla prossima